vi parlerò di Ennio, questo documentario qua in 4K, uscito come prima, adesso parliamo di un argomento delicato per me, perché appunto io non sono molto esperto di musica, conosco la musica come non la so fare, non la so suonare, non so fare un cazzo di tutto questo, però oggi vi parlo di questo documentario diretto da Giuseppe Tornatore, vincitore di 3 Davide di Donatello, che si chiama Ennio, eccolo qua, faccio vedere l'edizione, edizione 4K con Blu-ray, quindi se non avete il 4K potete comprarlo comunque e poi fare l'upgrade dopo, questo dovrebbe essere il Blu-ray e questo, sì, questo è il 4K, uscito con Play On, ex Coach Media, vediamo se c'è altro, questo è l'interno, la maraia che c'è dentro, e questo è il librettino, che sono anche carine queste schermate con gli spartiti, per chi è appassionatissimo ancora nel sonore, quindi probabilmente negli anni si è documentato su Ennio Moricone, io non mi sono mai documentato su Ennio Moricone, io Ennio Moricone me lo portavano davanti e io mi nutrivo, come si fa a casa quando la mamma ti porta la pappa, no? E fin da piccolo Ennio Moricone è entrato, diciamo, nelle nostre vite in questo modo, cioè nei film, in film che sono diventati popolarissimi, in film che sono spesso dei capolavori, film di registi incredibili che hanno fatto la storia del cinema, ma questo documentario a me è servito nella mia ignoranza, diciamo, in ambito di appunto colonne sonale, io sapevo che Ennio Moricone era cosa di più, non è come tutti gli altri, sì ci sono anche altri grandi compositori di musica per film, che hanno vinto gli Oscar, che hanno fatto grandi film, però Ennio Moricone era un fuoriclasse, questo l'avevo capito, lo capiscono un po' tutti, no? Perché di solito il nome del compositore di una colonna sonora non si conosce, non si sa. Paradiso Inferno, grazie per esserti abbonato, cazzo abbiamo superato persino i 100 abbonamenti, fantastico. Mi piacerebbe tantissimo fare questa recensione con sotto la musica di qualche film, come Mission o altri, ma non posso perché sennò mi verrebbe mutata la live e questo video comunque lo caricherò poi su YouTube. Allora, io ho visto il film, questo documentario di Tornatore, e mentre lo vedevo ho fatto, invece che prendere i miei soliti appunti sul computer, come faccio di solito, ho fatto degli appunti scritti, un foglio con dei disegnini, pasticci vari, c'è anche un ritrattino di Ennio Moricone. Ecco, questo tipo di contenuto lo fotografo, poi lo metto per i Patreon, quindi punto esclamativo Patreon, questa è solo una cosa, poi piano piano cercherò di portare anche altri, diciamo, dietro le quinte di quello che faccio, come lavoro. Al senso mi serve perché cazzo l'ho messo l'ape, questi sono gli appunti. Il documentario, chiaramente essendo di Giuseppe Tornatore, che con Moricone ha fatto, vabbè lo conoscete, il film, il nuovo cinema paradiso. È giusto, sì, è giusto il titolo, così. Io l'ho visto millenni fa, quindi non... forse un rewatch lo farei anche di questo film. Anzi, questo documentario in realtà di Ennio mi ha fatto venire voglia di rivedere, c'era una volta in America, i western di Sergio Leone. Mi ha fatto venire voglia di vedere un sacco di roba, addirittura anche un film di Tarantino, dove c'è, dove mi sembra che Moricone è a ventolosca per la sceneggiatura, per la colonna sonora, sceneggiatura, ci manca solo. È talmente geniale che poteva scrivere anche sceneggiatura. Allora, è diretto da Giuseppe Tornatore, quindi io me lo aspettavo in effetti un documentario un po' elaborato, cioè non un documentario, diciamo, povero di contenuti e montato in un modo classico. No, no, il documentario è montato in un modo molto elaborato, molto cinematografico, nel senso che ci sono un sacco di, diciamo, suoni incrociati e immagini incrociate, per cui si ricollegano all'intervista, quindi i primi piani, comunque i piani americani, di Ennio Moricone, intervistato, si alternano a una marea di cose tra materiale di repertorio incredibile, perché Ennio Moricone comunque, avendo iniziato tantissimo con la RAI, con il cinema, già facendo, suonando nell'orchestra che accompagnava i film prima, e poi lavorando tanto in RAI ci sono tantissime immagini, video di Ennio Moricone giovani che suonano la tromba, che fa determinate cose, quindi c'è tantissimo materiale di repertorio, ci sono le scene dei film, che erano fondamentali anche a detta di Tornatore per fare come voleva lui il documentario, perché a volte, purtroppo, alcuni documentari magari non hanno abbastanza soldi, questo era un documentario invece, sicuramente che con un progetto e un budget importante, e quindi ci sono tutte le immagini di film, ci sono un'infinità di persone illustri del mondo del cinema, da registi ad attori che hanno lavorato con lui, un sacco di immagini, anedoti sul suo rapporto, chiaramente uno dei più importanti con Sergio Leone, e quindi è montato veramente in modo molto divertente, ma allo stesso tempo ti fornisce veramente tantissime informazioni, perché ha fatto veramente tantissime cose, adesso non me lo sono segnato, ma veramente la quantità di film che ha fatto Moricone sono tantissime cose, io per esempio non sapevo niente di come avesse iniziato, quindi mi ha fatto piacere scoprire appunto che accompagnava i film, quando la musica accompagnava i film, che ha lavorato con svariati cantanti, che aveva l'ossessione di diventare un compositore, e il compositore per il cinema era un lavoro poco nobile tra i musicisti, poi è stato rivalutato anche grazie a Ennio Moricone. E poi c'è lui che è fenomenale, è veramente una persona che si commuove con una facilità estrema, e vederlo ricordare delle cose con la voce tremula è molto commovente, perché è una persona che si emoziona tantissimo, e il documentario è abbastanza emozionante da quel punto di vista, piange, diciamo che secondo me ha pianto anche più di quanto poi è stato inserito nel documentario. Un aspetto molto bello è che lui quando viene intervistato è un film in piena di spiegazioni su come compone, come ha ideato le canzoni, allora c'è lui che praticamente spiega come ha creato certi motivetti, certe canzoni, racconta come per alcuni film si è fatto venire delle idee, come operava, e poi diciamo che in tutto il documentario veramente capiamo, forse è qualcosa che sappiamo già, è come se ci si mettesse a fuoco qualcosa che già pensiamo, ma non riusciamo a concretizzarlo finché non vediamo il documentario. Ci rendiamo conto di quanto lui, più di altri, nel mettere le sue musiche, abbia in qualche maniera trascinato certi film, li abbia sorretti quasi nei momenti più difficili, nei momenti in cui di solito magari il pubblico perde l'attenzione, perché è una scena che può essere lenta e lo richiede la sceneggiatura, lui riusciva veramente a portare per mano lo spettatore durante i momenti anche più difficili e a esaltare i momenti più belli. Immaginatevi, provate a immaginare anche i western con Clint Eastwood, dove ci sono un sacco di suoni che sembrano ambientali, in realtà sono i suoni d'orchestra composti da lui, che si accompagnano anche ai suoni dell'west, di questo luogo, con cavalli, zoccoli, suoni metallici. Al contempo ci sono anche degli strani suoni che sembrano quasi da cartone animato dentro a questi film. Quindi lui in realtà ha contribuito tantissimo, secondo me, non secondo me, secondo un po' tutti, al successo di queste opere qua. Mi piacerebbe veramente, proprio perché ho visto questo documentario, mi è venuta veramente una grandissima voglia di rivedere questi film, stando molto attento a questo lavoro che c'è musicale e ambientale, perché a volte la sua musica non è solo la musica, la melodia che accompagna, a volte è anche una musica quasi astratta, di suoni creati in modi anche un po' assurdi, inseriti qua e là, dei piccoli colpi, delle piccole note, è veramente qualcosa di fenomenale. Come se gli strumenti, o i suoni degli strumenti, diventassero delle voci all'interno del film, come se fosse, che ne so, un uccellino che canta. Ecco, lui inserisce dei suoni che sembrano quasi suoni dell'universo di quel film. E ci tengo veramente tanto a fare un minimo di rewatch di quelli che sono i suoi film, diciamo, famosi, dove comunque anche le colonne sonore sono, potentissime, anche perché non li vedo da un'eternità. Cioè, tipo The Mission... c'era una volta in America, sono vent'anni che non lo vedo. Quindi, certo, ci vuole anche un po' di tempo per vederlo. Poi c'è questo aspetto bello, bello e brutto, cioè drammatico da un certo lato e brutto e bello, perché comunque alla fine poi si è risolta bene. Che è questa sua lotta nel cercare di essere accettato come musicista, pur facendo il cinema. Quindi lui dichiarava sempre che avrebbe smesso di fare il cinema, perché voleva fare il compositore di quella che era la musica classica. e alla fine dice sempre smetto, smetto, smetto. Alla fine non ha mai smesso. E poi a un certo punto è riuscito a fondere queste due carriere, per cui ha iniziato a fare anche il compositore. E a suonare, ha suonato tantissimo ed è stato accettato come genio un po' da tutti. e quindi questo è sicuramente un aspetto bello. La cosa mi ha fatto riflettere molto su, intanto sul fatto che lui non veniva accolto come un talento dai suoi maestri e lo hanno fatto, diciamo, qualcosa gliel'hanno attribuita alla fine, però non è mai stato colto come un genio. Quindi questo cosa significa? Che non, appunto, questo discorso qua, che in qualche modo la cultura, per quanto sia enorme, non ti dà gli strumenti, non ti dà abbastanza, non basta la cultura per cogliere il genio. E qui torniamo all'argomento di prima, cioè di quanta cultura devi avere cinematografica per parlare di cinema. Nel senso, per parlare in un certo modo. Il genio non lo cogli così, perché spesso vediamo che i critici non si accorgono per anni che Hitchcock è un genio e tanti altri casi, no, di musicisti, che non vengono colti subito come geniali. Quindi questo mi ha fatto molto riflettere. Poi mi ha fatto veramente riflettere come Ennio Morricone sia veramente dentro ognuno di noi, ma anche a livello proprio di società, come lui, la sua musica sia quasi nel tessuto sociale proprio della nostra società. Non solo, la cosa è spaventosa, che non solo italiana, cioè proprio mondiale, perché poi i suoi film sono internazionali. E quindi lui era una star in tutto il mondo, cioè era veramente amato in tutto il mondo. Quindi è impressionante, è impressionante come lui ci sia, sia arrivato nel cuore di tutti. Cioè dal più ignorante al più colto, perché la musica, l'aspetto sonoro del cinema rimane comunque il più importante in assoluto, sempre. Nonostante sia arrivato dopo, però è fondamentale, arriva di più. Quindi, bellissimo documentario, non so se qua mi sono segnato delle cose. In generale è un documentario, quindi fatto abbastanza bene. Fatto bene, fatto bene. Pieno zeppo di informazioni che però, appunto, vi invito... Se siete veramente appassionati di colone sonore, di cinema, cioè questo è da vedere assolutamente, da avere da vedere. Indubbiamente, ve lo faccio rivedere qua. Genio, 4K e Blu-ray. Una meraviglia. Sono contento di averlo.